Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il primo video del 2023, dunque auguro uno splendido anno a tutti voi e alle vostre famiglie e soprattutto a grandissima richiesta, chi non mette like e guarda il video senza essere iscritto avrà un 83% di probabilità di avere un 2023 sfortunatissimo. Io non rischierei. Chi ha visto il primo video del 2022 si ricorderà che ho iniziato dicendo due buoni propositi, cioè raggiungere i 100.000 e venire cancellato o accusato di qualche tipo di fobia. Per i 100.000 le abbiamo raggiunti e superati di gran lunga. Per il secondo diciamo sì e no, ho avuto gente che mi ha accusato di transfobia, ma il motivo per il quale volevo avere gente che provava a cancellarmi è innanzitutto per obiettivo personale, come medaglia al valore. Perché se nel 2022, ormai 2023, esprimi una tua opinione senza avere qualche degenerato che ti accusa di essere un mostro, non stai davvero esprimendo la tua opinione. Ma anche perché sarebbe letteralmente pubblicità gratuita, più content su cui fare video. In questo caso invece è stata gente completamente rilevante e sono loro che hanno bisogno di parlare di me per visibilità. Ma è stato comunque divertente, quindi diciamo obiettivo raggiunto ma non esattamente come speravo. Guardando avanti però, per quest'anno direi di puntare ai 200.000. Detto questo, molti sapranno che circa un mese fa è uscita una serie tv su Netflix che si chiama Mercoledì. Questa sera è andata molto bene, ho visto che ha anche battuto qualche record di visualizzazioni sulla piattaforma e come per ogni serie che raggiunge un pubblico così ampio c'è anche qualche polemica stupida che la riguarda. E immagino che sia una cosa abbastanza normale quando una serie viene vista da milioni di persone e ovvio che arriverà anche a quelle persone che vivono per creare polemiche inutili. L'abbiamo visto con Squid Game, Dahmer e ora tocca a Mercoledì che è stata accusata di razzismo e in questo video scopriremo il motivo. Per chi non avesse visto la serie vi dico fin da subito che non ci saranno spoiler ovviamente, ma vi spiego il contesto per farvi capire a tutti di cosa si parla. In pratica è una serie ispirata ai personaggi della famiglia Adams e in particolare vediamo Mercoledì andare in una scuola privata. Ok, questo è letteralmente tutto ciò che bisogna sapere su questa serie e se vi chiedete come mai è stata accusata di razzismo, questo è il motivo. Tim Burton, il direttore della serie, è accusato di razzismo per aver scelto degli attori neri per il ruolo dei bulli. Questo perché a quanto pare degli attori neri non possono interpretare qualcuno che non è l'eroe della situazione. E sempre andando avanti a leggere questo articolo ci viene detto che le critiche hanno contestato il fatto che l'attrice nera Joy Sunday interpreti una ragazza cattiva in questa scuola e che l'attore Iman Marson interpreti il bullo e il figlio di un sindaco corrotto. E questo è tutto. Queste sono le ragioni per le quali stanno accusando una serie tv e suo direttore di essere razzisti. Sinceramente mi sono perso il passaggio dal dire mettiamo personaggi per rappresentare tutte le etnie al personaggi che non sono bianchi devono per forza essere degli angelici in terra. Che poi, e questa è la cosa assurda, andando a pretendere questa cosa, cioè che gli attori neri devono per forza avere il ruolo dei buoni, gli stai facendo un torto a tutti gli effetti perché diventerà sempre più difficile per loro essere scelti perché diminuiscono drasticamente i personaggi che possono rappresentare. Oltre al fatto che se volessero davvero accontentare quella gente dovrebbero stare attenti a ogni minimo dettaglio ogni volta che scelgono di assumere un attore nero. Quindi non so nemmeno quanto gli convenga a questo punto. Quindi le persone che in teoria starebbero cercando di aiutare in realtà sono quelle a cui stanno facendo a tutti gli effetti un danno. O almeno questo se davvero volessero accontentare questa gente. Ma non sembra questo il caso però perché stavolta queste critiche sono arrivate addirittura ai produttori di questa serie. Infatti l'articolo dice che un rappresentante di Barton che ha fatto da direttore e produttore esecutivo della serie, quando gli hanno chiesto spiegazioni sulla cosa ha detto che non manderà una richiesta di commento così stupida a Tim. E direi che ha fatto più che bene a rispondere in questo modo, mettendosi a parlarne, anche lui gli avrebbe dato solamente più importanza e attenzione di quelle che davvero si merita. Ma questo, a quanto pare, non ha fermato le persone dall'accusare di razzismo la serie e i produttori in generale. Can we please stop villainizing black women in media? So this is a character from the new Wednesday series on Netflix, played by the beautiful Joy Sunday. And as I'm watching this series, every time her character comes on screen, I couldn't help but to reminisce from another character in another TV show. And it just dawned on me, it was Prudence from the chilling adventures of Sabrina the Teenage Witch. Wow, that was a mouthful. But as I was saying, I think it's so stupid how it's always the black woman who's being villainized in these TV shows. And it sucks because when we actually get a black female character that isn't villainized, it's like yay, the show gets cancelled. Now I was so ready to give Wednesday the TV show a 10 out of 10, but because of the villainization of black women, I'm a minus 1 point and give it a 9 out of 10. Other than that, it's still a great show. La cosa davvero divertente di questo TikTok è che se apriamo i commenti, non del video originale perché l'ha eliminato, provate a indovinare il motivo, ma se guardiamo i commenti di chi l'ha ricaricato, tutti dicono che guardando la serie non l'hanno nemmeno percepita come una cattiva, ma anzi è stata un personaggio che hanno apprezzato molto. Quindi se quello che pensava è che avevano messo un'attrice nera per associare il suo colore a essere un personaggio negativo, non è andata così perché solo lui l'ha vista in questo modo. Altra cosa, ha detto che in tutte le serie TV o nei film le donne nere sono sempre state rappresentate negativamente. È oggettivamente falso quello che sta dicendo. Ma la cosa più assurda secondo me è quando dice che la serie gli è piaciuta molto, che gli avrebbe dato un 10 come voto, ma dà 9 perché gli attori che hanno rappresentato i cattivi, secondo lui, sono neri. E questa cosa la trovo veramente strana, l'ossessione che queste persone hanno per il colore della pelle. Cioè quando guardava la serie non li guardava come degli attori, come l'attore X che fa questo ruolo, eccetera. No, erano il loro colore di pelle e basta. E secondo lui, i neri non possono essere altro che gli eroi della situazione, altrimenti la serie non gli piace, o gli piace di meno. Cioè, se la serie ti è piaciuta, ma chi se ne frega di che etnia è il personaggio buono e quello cattivo, o in questo caso il personaggio che tu vedi come cattivo. Che poi, anche se fossero veramente i cattivi della serie, non per forza è una cosa negativa, perché dipende molto da come è stata strutturata la serie TV. Per esempio, io spesso finisco per trovare più interessante quello che sarebbe il cattivo, o comunque non quello che è il buono in tutti i casi, perché spesso, a differenza dell'eroe, del buono che spesso finisce per essere noioso perché già sai come si comporterà per tutta la serie, l'antieroe può essere più imprevedibile, magari anche una storia alle spalle che l'ha portato a essere così. E infatti spesso i personaggi che avrebbero dovuto essere più cattivi finiscono per essere i più amati dal pubblico. Quindi penso che sia veramente una polemica stupida da ogni punto di vista. Il direttore di questa serie TV, in realtà, anche in passato era stato accusato di razzismo, ormai qualche anno fa, per non avere abbastanza persone nere nei suoi film. E in quel caso rispose dicendo che mettere degli attori neri solo perché doveva essere inclusivo sarebbe stato peggio di avere solo personaggi bianchi. Cosa con la quale sono d'accordo mettere dei personaggi di una certa minoranza solo per far vedere che sia inclusivo non ha senso, non aiuta la trama della storia in sé, tantomeno non fa piacere alle persone che dovrebbe rappresentare, buttare lì uno stereotipo più banale di una categoria di persone solo per far vedere quanto sia inclusivo. Ma questa cosa non è ancora andata giù ad alcune persone che anche dopo l'uscita di questa nuova serie TV ne hanno parlato. La risposta di Tim Burton ha le critiche per non avere delle persone nere nei suoi film o serie TV e rendere i primi due personaggi neri di mercoledì degli antagonisti. E questo è un punto interessante perché dimostra che in realtà quello che voleva non era semplicemente venire rappresentata nelle serie TV che guarda, che è una cosa che ci può stare, ma quello che le interessa è che ci siano degli attori neri e che siano per forza i buoni della situazione. La rappresentazione va bene, ma solo se è positiva. Ti devono mettere su un piedistallo ed elogiarti perché i cattivi devono per forza essere bianchi. Quindi di fatto quello che vuole non è nemmeno rappresentanza, ma una favola che si vuole sentir dire. Che poi in questo caso non stiamo nemmeno parlando di dei veri cattivi, ma il punto della questione è che non per forza se uno appartiene a una certa minoranza deve essere il buono. Un nero può essere buono o cattivo, un bianco può essere sia buono che cattivo, qualcuno che è gay può essere sia buono che cattivo e questo vale per ogni altra caratteristica. Non posso credere che sia necessario dirlo nel 2023 ormai, ma a quanto pare sì. Che poi questa polemica fatico sinceramente a capirla perché Netflix negli ultimi anni è diventato super woke con tutti i prodotti che pubblica. In ogni serie tv ci buttano dentro qualcosa per accontentare queste persone. Anche in questa serie tv citano il patriarcato, la mascolinità tossica, il mansplaining e molte altre cose. E in generale in molti di questi film o serie tv puoi già capire come andrà a finire dagli attori che scelgono per rappresentare il cattivo, cioè il masco bianco etero cis della situazione. E nonostante tutto questo, nonostante quanto siano woke la maggior parte dei prodotti Netflix, le persone hanno comunque qualcosa per cui lamentarsi. E questo perché se comincia a guardare la realtà dal punto di vista di questa gente, cosa che dopo tutti questi video modestamente so fare piuttosto bene, qualsiasi cosa può essere offensiva. Letteralmente qualsiasi cosa se vista dal loro punto di vista può essere problematica e offensiva per qualcuno. Ho visto un meme qualche tempo fa di una che si lamentava sia se i personaggi erano tutti neri, bianchi o una qualche combinazione. In ogni casistica ci trovava un problema e mi dava la colpa razzismo. E appunto era un meme, ma qualcuno l'ha preso come un libro di istruzioni perché anche nella realtà si comportano così. Comunque anche per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno scelto di supportare il canale con gli abbonamenti o Patreon. Se volesse supportare il canale anche voi potete valutare l'idea di abbonarvi. E detto questo direi che ci becchiamo al prossimo video.